E' arrivato un pari in questo posticipo, partita bella da vedere, un pari giusto a mio avviso? Sì, sicuramente possiamo dire che la scuola avversaria si è difesa bene, noi abbiamo dato tutto, molte volte abbiamo calciato tanto ma la palla non è entrata, però purtroppo non possiamo perdere punti, soprattutto in casa, a prescindere non possiamo perdere punti su partite così perché ora è presto, il campionato è lungo ma alla lunga saranno proprio questi punti che decideranno la stagione, quindi purtroppo ci dispiace sicuramente ma già mercoledì abbiamo una dura prova e quindi possiamo dimostrare di tornare a fare i tre punti, quindi tornare alla vittoria. Una settimana complicata perché ci sono tante partite, mercoledì c'è la Coppa Divisione e poi si va in casa del Senise, forse è il momento migliore per dimenticare subito questo pari e ritornare a giocare? Sì, è proprio il momento migliore ma magari può essere anche più difficile perché si gioca subito, quindi però sono sicuro che la voglia della squadra c'è già mercoledì, la dimostreremo e poi naturalmente sabato in campionato. Dal punto di vista personale un ottimo avvio di stagione, sette gol, oggi una doppietta, puoi essere soddisfatto? Sì, sì, sono soddisfatto, purtroppo è mancata la vittoria ma lavoriamo per questo. Un pareggio merito del Monopoli o per demerito del Palo perché la fase difensiva dell'Audacio è stata ottima, voi qualche difficoltà a trovare il varco giusto? Sì, è stata una partita, diciamo, in alcuni momenti abbiamo gestito bene il possesso palla, sembravamo di avere anche il potere del gioco, però poi abbiamo fatto delle ingenuità e ci hanno fatto subire gol. Quindi quando tieni poi sempre la partita aperta, ovviamente contro una squadra che difende sui 12 metri, poi diventa anche difficile trovare il varco giusto e loro poi comunque giocavano solo sulle ripartenze. Dobbiamo cercare di migliorare soprattutto questa situazione di gioco perché molte squadre ovviamente ci stanno affrontando in questa maniera. In generale comunque sono soddisfatto perché comunque i ragazzi hanno cercato di mettercela tutta, poi siamo anche stati forse in alcune situazioni un po' sfortunati perché abbiamo preso un palo con D'Ambrosio, in un'altra situazione dove magari si poteva fare meglio non siamo riusciti. Però fa parte del gioco, noi l'accettiamo, il campionato è lungo e diciamo va bene così. Ti chiedo se questo fatto insolito di giocare in un posticipo rispetto agli altri dal punto di vista psicologico ha pesato? Sicuramente dal punto di vista psicologico pesa perché peraltro per delle regole a mio parere anche un po' strane, noi saremo costretti questa settimana a fare tre partite in sette giorni quando tranquillamente la partita di Coppa poteva essere spostata la settimana prossima considerato che la Coppa di divisione non si giocava. Però accettiamo quello che ci viene detto dalla federazione quindi andiamo avanti, già concentrati per disputare, cerchiamo di fare una grande partita e di rifarci da subito con il San Michele.